L'annuncio del sindaco Pierluigi Biondi sul ritorno delle strisce blu nei parcheggi del centro storico ha suscitato diverse reazioni. Confcommercio dice sì, a patto che i prezzi siano adeguati e non si ripeta la storia di Portaleoni. Il sindaco ha annunciato 3.000 parcheggi in più nel perimetro del centro e il contestuale e gradale ritorno dei parcheggi a pagamento, discorso che interessa particolarmente ai commercianti aquilani e anche ai residenti e cittadini. Il problema dei parcheggi resta uno dei più sentiti in centro e commercianti hanno difficoltà perché tanti clienti alla fine nella speranza del parcheggio che non trovano rinunciano. Portaleoni ha solo attutito in qualche modo il disagio ma servono delle risposte strutturali come quella che sta tentando di fare il comune. Siamo andati a chiedere ai commercianti cosa pensano del ripristino futuro delle strisce blu. Io sicuramente sì, sono d'accordo perché creerebbe comunque un turnover dei parcheggi e non questa sosta diciamo pesante di macchine che sostano giorni e giorni. A noi serve un cambio, un ricambio della clientela, un ricambio della gente che ci viene a trovare in centro perché altrimenti non ci riusciamo ad andare avanti. Ecco oggi ci sono tante difficoltà anche a causa dei cantieri ancora? Sì ci sono tante difficoltà a causa dei cantieri ma le difficoltà più grandi che abbiamo è proprio la gente che per venirci a trovare ci dice non sappiamo dove parcheggiare. Noi siamo sicuramente d'accordo, sicuramente è una cosa da portare avanti nel minor tempo possibile per necessità insomma di tutti ma sicuramente sarà una cosa che porterà più ricambio e più movimento in centro dato che adesso è difficile magari per tanti capire dove sì, dove no, come e quando e sicuramente la tariffa sarà una parte fondamentale di questa di questa nuova conformazione del centro e insomma speriamo che sia più veloce possibile. No io non sono d'accordo, non sono d'accordo perché già si fa fatica così con le strisce bianche, va benissimo anche ad orario ma si fa fatica anche così, con le strisce blu è un po' più complicato. Già adesso passeggiano poco, nel senso magari c'è la passeggiata al fine settimana quant'altro ma in realtà c'è già poco, nel senso non ci sono i residenti quindi già si fa fatica così, quindi mettere le strisce blu ci metterebbe ancora più in ginocchio.